Nella precedente video lezione abbiamo visto che Dio è tre cose fondamentali, è eterno, è verità ed è amore. E il percorso che ci porta verso di Lui è un percorso che va verso la verità, che ci porta al massimo amore e all'eternità. Infatti chi torna a Lui dopo la morte vivrà in eterno e quindi potrà essere nel vero senso della parola in eterno e potrà sperimentare non solo un amore perfetto e puro ma anche una conoscenza e un sapere perfetto senza errori. Quindi il massimo livello a cui può aspirare l'uomo è proprio dopo la morte con il ricongiungimento a Dio che è il suo maiuscolo. Mi spiego meglio, secondo Agostino anche l'uomo ha una struttura trinitaria come Dio e questo lo rende in minuscolo ciò che Dio è in maiuscolo e questa struttura trinitaria è data dall'essere, dal conoscere e dall'amare. Infatti l'uomo è, conosce e ama in minuscolo, mentre Dio è, il padre, è intelligenza, il figlio e amore, lo spirito santo. Secondo Agostino l'uomo ha tre facoltà che sono altrettanto presenti in Dio in modo perfetto, la memoria, l'intelligenza e la volontà o l'amore. Come dice Agostino, io sono, io conosco, io voglio, sono in quanto so e voglio, so di essere e di volere, voglio essere e sapere. Veda chi può come in queste tre cose ci sia una vita inseparabile, un'unica vita, un'unica mente, un'unica essenza e come la distinzione sia inseparabile e tuttavia ci sia. È proprio il fatto che l'uomo è fatto a somiglianza di Dio che gli consente di poterlo ricercare e poterlo amare, ma l'uomo può anche allontanarsi da questa ricerca attraverso il peccato. Infatti l'uomo ha la possibilità di intraprendere questo viaggio di conoscenza di Dio, ma non è detto che lo faccia questo viaggio. Agostino distingue tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. L'uomo vecchio è quell'uomo carnale che vive per appagare bisogni terreni e che nasce, cresce, invecchia e muore. Invece l'uomo nuovo è un uomo spirituale che ha intrapreso questo percorso interiore dentro di sé che porta alla verità. Anche quest'uomo ha delle età che però non sono legate al trascorrere del tempo, dalla nascita alla morte. L'età dell'uomo nuovo è un'età che scannisce i passi che l'uomo nuovo fa verso la verità, verso Dio. Quindi diciamo che l'uomo si trova nella sua vita ad un bivio. Da un lato c'è la strada della vita secondo la carne e dall'altro c'è la strada della vita secondo lo spirito. È proprio quest'ultima strada che consente di vedere quel portone che Dio aprirà per mostrare la luce della verità. La strada della carne in realtà non è una strada scelta autenticamente, perché l'unica strada autentica è proprio quella dell'uomo che sceglie di aderire all'essere e il peccato è proprio la rinuncia a questa strada. Il peccato è definito come la superbia della volontà che sposta il focus dall'essere puro ad altri esseri carnali. È per questo che il peccato non ha una causa efficiente, bensì ha una causa deficiente, nel vero senso della parola, perché deficere in latino significa qualcosa che manca e l'uomo che sceglie la vita carnale del peccato è un uomo che sceglie di deficere, ossia di non percorrere l'unica vera via verso la verità e l'amore, quella verso Dio. Ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo di Agostino e della sua idea di creazione del mondo.